Sono due competizioni diverse. Come ho detto prima della partita con Ajax, noi siamo stati quasi sempre in tutta la stagione i primi quattro della classifica dentro degli obiettivi in campionato. Ma penso che è importante anche dire che hanno mancato un giocatore importante in questa altura in cui abbiamo lasciato le quattro prime posizioni. Sono due competizioni diverse. La Serie A è una competizione lunga con tanti partiti. L'Europa League è una competizione in cui abbiamo la fase di gruppo ma dopo sono partite a eliminare direttamente. Sono competizioni diverse. Penso che è questo. La verità è che quando ha una competizione lunga si sbaglia più, si può sbagliare più e se non c'è un giocatore importante è troppo difficile. Il suo lavoro? Mai ho pensato. Mai. I giocatori capiscono che la prossima partita è sempre la più importante. In questo momento devono capire che è importantissimo vincere Bologna domani. È molto chiaro per tutti noi. Io non ho visto l'intervista. Grazie per le parole, ma non ho visto l'intervista e non voglio commentare quello che non conosco, che non ho visto. Il mio futuro non è importante. Io sono solo focalizzato nel presente. E lo più importante è la Roma. È la Roma che è più importante in questo momento. Penso che sarà difficile avere Smalling per Ajax. Miki ha allenato oggi con la squadra. Ovviamente ha fatto solo un allenamento. Non giocherà da inizio domani. E Veritù vediamo. Ha giocato dopo l'infortunio nella partita con Ajax. Vediamo domani. Pastore è stato fermo tanto tempo. Io ho già parlato con lui. Penso che deve ritornare a giocare nel tempo giusto, nel contesto giusto. Ma lui sa quello che io penso. Questo non è un problema solo della Roma. È un problema di tutte le squadre che giocano tante partite, che hanno giocatori sempre nella nazionale. Abbiamo tanto esempio in questo momento di quello che succede alla Roma, che succede in tanti grandi club. Io ho visto tante infortuni adesso nelle partite della nazionale. E dopo è un calendario molto congestionato, con tante partite. Penso che in questo momento si vede più, perché ha tante partite. E dopo è quello che parliamo. Questo è un problema. È un problema che dobbiamo parlare di lui. Per esempio Guardiola sta sempre parlando di questi problemi. I giocatori non sono macchine. A giocare tante partite è normale che succeda. E come io sempre ho parlato, lo più importante adesso è Bologna. Dobbiamo sempre pensare che la prossima partita è la più importante per noi. E continuare così. Penso che è un problema culturale, è un problema di necessità. Non possiamo dimenticare che la Serie A è una delle serie più importanti e più forti dell'Europa e del mondo. E per esempio in Olanda o in Portugale, che sono due paesi che formano molti giocatori, non hanno potere di comprare le principali campionate in Europa. Sono obbligati a formare i giocatori, perché non hanno potere di comprare i migliori giocatori. Qui in Italia è un po' diverso. Come è il meglio, il principale campionato in Europa ha questo potere di comprare. Ma qui a Roma abbiamo un esempio di apposta in giovani. Abbiamo Cumbulla, Calafiori, Bagnes, Mancini, Villar. Abbiamo molti giovani qui a Roma, ma penso che il principale problema è questo. Sarà una partita difficile, ma siamo focalizzati in tutta la squadra, non solo in un giocatore. Sappiamo che sarà una partita difficile contro una squadra che è molto aggressiva, che ha un giocatore di qualità, ma pensiamo in tutta la squadra in generale. Sono i due convocati, sono pronti per giocare. Vediamo domani. Ok, grazie.